La torre si illude, i tifosi e se stesse, andando in vantaggio contro il Latina dopo 20 minuti per poi finire, sotto i colpi di una squadra che Aerosol Blu può invidiare poco sul piano del gioco, ma che la sovrasta in termini di esperienza e mentalità vincente. Tre calci da fermo, due corner e un rigore bastano agli uomini di Mister Ciullo, subentrato in settimane sulla panchina nerazzurra, per chiudere la pratica dopo 10 minuti della ripresa per il 3-1 finale. Dall'altra parte, sprazzi di tecnica e ardore agonistico, ma zero o quasi, tiri in porta ed errori marchiani in fase difensiva che costano gol e partita. Torres priva di Gomez, squalificato, e Ruiu, infortunato, con mele in panchina, preservato per un problema fisico, ma che ritrova pieno regime Lavinia, sempre tra i migliori dei suoi, e Auriglio, a presidiare il centrocampo con Prosi. Sugli esterni, Samuele Pinna e Bilea in avanti, la coppia tedesco e Mascia in difesa, Rutien, Schiaroli e Pinna davanti a Frasca. Primi minuti di gara con il Latina che si affida ai lanci lunghi a caccia dei suoi avanti, ma la difesa tiene bene. Si soffre invece sui corner, che arrivano in rapida sequenza e che non promettono nulla di buono. Torres che lentamente esce dal guscio, inizia a pressare alta, con Lavinia sempre nel vivo dell'azione, Prosi ad impostare, Auriglio a dialogare con le punte, e un Mascia che con lo scorrere dei minuti si fa sempre più pungente. Al ventunesimo arriva il gol rosso-blu. Lavinia ruba palla sulla tre quarti, serve tedesco in aria che con un tiro cross innesca la corrente Auriglio sulla sinistra, che infila l'unzi mettendo a referto il suo primo gol stagionale. È il miglior momento della Torres che però non approfitta dei minuti di sbandamento del Latina per assestare il secondo colpo. Trascorrono invece otto minuti e gli ospiti trovano il pari. Corner dalla destra e Giorgini è, inspiegabilmente, solo a centro aria, libero di colpire di testa e mettere dentro il più facile degli 1-1. La Torres ci prova con Prosi al trentatresimo, conclusione centrale, e poi occasione clamorosa al trentanovesimo. Milea, prima di essere falciato, serve Auriglio che alimenta la corsa di Mascia sulla sinistra. Il 2002 rosso-blu è bravo a portare su di sé tre avversari per poi servire ancora Auriglio che con un tiro a girare sul palo lungo impegna Alonzi in un intervento decisivo. Al quarantunesimo, Tedesco spreca dal limite su una bella ripartenza sulla destra alimentata da Sommelipinna e Lavinia, conclusione debole del nove rosso-blu. Un minuto dopo è Pompei ad andare vicino al gol sul tocco ravvicinato con il pallone che colpisce l'esterno della rete. Non è finita, al quarantaquattresimo, l'ex di turno, Sarrizzo si guadagna l'ennesimo corner e sarà letale. Palla in aria, vanno a saltare Rutians ed Esposito, ma è forse il difensore rosso-blu a colpire per ultimo, ingannando Frasca. La Tina è in vantaggio allo scadere del tempo. Nella ripresa, Auriglio viene messo giù al terzo minuto da Esposito. Si fischia un offside molto dubbio e forse è lo stesso capitano Nerazzurra a tenere in gioco il 10-torresino sull'assist di Mascia. I primi dieci minuti sono di marca rosso-blu. La torres gioca bene in velocità e crea pericoli in aria Nerazzurra. Questa azione di Mascia, che lascia sul posto tre avversari e mette in aria, meriterebbe miglior sorte, ma Esposito intercetta e libera. All'undicesimo, la terza ingenuità di giornata. Di Renzo mostra il capitolo 1 di come ci si prende un rigore, ruba il tempo a Samuele Pinna in aria e poi, appena toccato, va giù. Dal dischetto è lui a marcare il 3-1. Frasca salva la porta al quattordicesimo su Giorgini nell'ennesima giocata aerea che lascia la difesa a guardare. Dentro, Fadda e Battista al diciassettesimo per Pinna e Prosi, ma è una torres che non ha la determinazione necessaria per mettere più paura agli avversari. Mister Graziani butta dentro anche Ponsat. È buono l'approccio con la gara per l'attaccante rosso-blu, ma il tempo scorre e di occasioni da gol non ne arrivano più. Al triplice fischio c'è l'ennesima delusione, ma per affrontare le prossime battaglie occorrono rabbia e cattiveria. Grazie a tutti i nostri spettatori.